che bello è abbinato allo sfondo ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi oggi sono qui per fare un lipstick application dei rossetti nude preferiti e spero che le mie labbra sopravviveranno a tutto ciò i rossetti sono questi e voglio cominciare dal forse il più chiaro di tutti poi alla fine quale sarà stato il vostro preferito vi sto facendo uno spoiler di rossetto che è il famosissimo, direi, Velvet Teddy della MAC ora, io non compro più MAC diciamo, ho dei rossetti della MAC questo è tutto ciò che ho di MAC non ci comprerai più perchè non hai cruelty free lo so com'è l'isolazione ma il concetto di cruelty free è che se un marchio un brand comunque vende in Cina in Cina abbia un prodotto o qualcosa che non va viene testato sugli animali e quindi è come se fosse d'accordo con quel modo superanti quindi adesso non la sostengo più ecco però ormai ho questo rossetto e l'ho utilizzato è comunque molto bello, bisogna dirlo non ho uno specchio quindi mi specchierò direttamente nella macchina fotografica sperando di fare un lavoro decente questa è la versione mini si vede molto piccola io apprezzo molto le versioni mini dei rossetti trovo che sia una cosa intelligente da fare e da acquistare lo vedrete leggermente più lucido sulle mie labbra perchè ovviamente mi sono messa 3 kg di burro cacao per fare questo video è comunque un rossetto bellissimo trovo che rimpolvi molto le labbra anche con un burro cacao diciamo molto lucido va al di sotto proprio rimpolpa tantissimo in un video l'avevo usato con sotto un burro cacao parecchio insomma olioso e ci avevo messo un po' di illuminante qui e mi avevate chiesto se mi ero rifatta le labbra quindi questo è il primo quindi questo è il primo probabilmente questo video verrà integrato di una clip spero spero perchè mi dovrebbero arrivare dei rossetti liquidi da Clio Makeup Shop che aspetto da letteralmente una vita che uscirà venerdì spero proprio arrivi dentro spero di vedere perché ho aspettato veramente come Ulisse per tornare a casa ho aspettato come Penelope per Ulisse veramente poi poi il il secondo più chiaro direi che è questo questo è uno dei bucolici di Richioba per Cosmai Fai in realtà il mio preferito è un altro però e li ho dati tutti mia madre perchè ne va matta le piace il pack lo espone e li ha letteralmente quasi finiti ne manca tanto così quindi mi ha fatto piacere darli a lei ok questo è leggermente rosato si chiama protetto e lettere li sto mettendo un po' alla cavolo sappiatelo perchè ovviamente non vedendomi non è che posso fare molto di più appunto questo è leggermente rosato ma rimane comunque neutro quindi mi piace molto ha una consistenza più meno discorrevole rispetto alle del di perchè vedete è più matta ma rimane molto confortevole sulle labbra devo dire non ho mai capito che tipo di rossetti siano adatti a me penso proprio quelli super neutri siano perfetti perchè le mie labbra sono sul violaggio ma la mia pelle è sul neutro caldo quindi non si capisce mai niente questo mi è stato inviato questo mi è stato inviato è stato inviato per fare i tagli perchè qui non c'è mai un attimo di pace quindi bisogna per forza fare dei tagli purtroppo vado a rimuoverlo io uso quest'acqua micellare di acqua alle rose ce l'ho da due mesi e vedete che non è troppo finito non lo uso tutti i giorni lo uso solo in occasioni in cui non mi posso struccare con l'acqua diciamo così altrimenti uso l'itergente allora vediamo 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 direi che come come chiari chiari sono finiti passiamo a un altro mio preferito questo lo ho già fatto vedere in versione liquida è lo 02 di WeMakeup anche questo mi è stato inviato questo non è un video sposolizzato voglio chiarirlo come il rossetto liquido mi piace molto solo le labbra sono un po' rosse che è un po' rosse è un po' rosse and make a little stovation of the look Come potete vedere e sentire, questi sono rossetti super cremosi, ammetto che non sono mai stata una malacanità di rossetti cremosi, però ultimamente, sarà che mi piace l'effetto rimpolpato sulle labbra, mi gustano, perché io proprio trovo che rimpolpino molto la mia parte superiore che comunque è più piccola rispetto alla mia parte inferiore delle labbra. E questo colore mi piace tantissimo, trovo sia veramente strapportabile, cioè proprio un paspartout lo metti, devo dire che sono idratantissimi, veramente, io l'ho messo anche con le labbra secche, e cioè proprio sono rimasta piacevolmente colpita proprio dal fatto che non mi dessero per niente fastidio, anzi, faccio solo comodo alle mie labbra, diciamo così, quindi questo 0-2 ha tantissimo, trovo sia... T'ho assomiglia veramente di magari quando riguardano il video riuscire a confrontarli meglio. Comunque vedete che adesso le mie labbra sono leggermente rossa perché le ho sfregate un po', però vedete che è veramente molto 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 simile al colore delle mie labbra. E invece veramente tanto questo... lo porto anche sotto la mascherina, perché mi piace. Passiamo a... forse il mio preferito, io adoro questo rossetto, veramente adoro alla follia. È un nude che si nota leggermente di più sulle mie labbra, è leggermente più violaceo, però esattamente sotto le mie labbra. E... però non è troppo freddo, troppo rosato, è comunque relativamente caldo, non saprei come dire. Però non è troppo freddo, troppo rosato, è un buon neutro secondo me. E si tratta di OMI, OMI, non OMI, non so. È di Padme Grat. Questo è la mini size, che ho preso per 25 dollari. E ho visto che in Italia costa quasi il doppio. Per 25 dollari ci sta, per il doppio. Allora, sono in condizioni pietose, guardate. Non so se si noti, ma pende da una parte, perché tipo si è staccata la base. Probabilmente stando in valigia, così, si sono spalluzzate da una parte e dall'altra. Sta di fatto che questo comunque mi fa impazzire. E valuterò il suo acquistuto dopo che avrò finito questo. Non saprei. Vedete che si muove. Devo tenere proprio, ok. Non è somatissimo, comunque. Vedete, è perfettamente neutro. Non so, tra l'altro è anche questo cremoso. Non lo definirei shimmer, però cremoso sì, rimpolpa da quell'effetto rimpolpante che mi fa impazzire. E non lo so, questo mi sembra proprio, anche questo è un nude superlatto al mio viso. Poi contate che adesso sono leggermente bronzata, quindi anche questo cambia un po' le cose. però, anche quando ero più bianca mi piaceva tantissimo. Ovviamente risultava leggermente più scuro, ma comunque è un prodotto bellissimo, bellissimo. Senta che comunque scorre bene sulle labbra. I bag sono bellissimi, ultimamente. Che bella è abbinata allo sfondo. Ultimamente, purtroppo, sto molto ricercando, sto molto bramando i brand Luxury. Perché sono molto altrettante anche dal pack. Arriverà anche un miglio di skin care, perché ho fatto un acquisto folle, letteralmente folle. E mi ragazzo arrabbiate con me perché ho fatto questo acquisto. Di skin care, perché c'erano gli sconti. Spero ne valga la pena. Va bene. Mancano tre rossetti. Direi che andiamo con lo 06 di We Makeup. Anche questo mi piace tanto. È un po' più presente. È un nude che comunque si nota. E in questo mi piace tantissimo. Mi rimpolpa tantissimo. E non lo so. Adoro veramente questo effetto. Sebbene io sia veramente molto, molto, molto fan del matte. Comunque questo tipo di cremoso mi piace molto. Mi piace più che altro perché rispetto ad altri rossetti, tipo quello che di solito, quelli tipici della mamma, non saprei come dire, che sono cremosi, ma proprio lucidi, lucidi, lucidi. E soprattutto molto spessi questi sono estremamente sottili. E quindi comunque, non so, non mi danno quell'effetto cremoso che proprio non mi piace. Non so, non so, sappiate capire il concetto. Ok, lo 06 di We Makeup, degli Yves Lipstick. Non so se dove anche questi mi hanno inviati. Non so se dove anche questi mi hanno inviati. Non so se non so se appunto percebiate proprio questo effetto di impolpante che danno alle mie labbra. Mi piace veramente impazzire. Più che altro perché sono veramente comodissimi. Proprio comodi sulle labbra. Comodi, comodi. Io non faccio mai mazzare sul mio canale perché ho avuto delle brutte esperienze. Però spero che la community un po' sia cambiata. Bene. E andiamo a tagliarlo, vi faccio vedere. Poverino, ormai. Comunque vedete che i miei nude sono questi, non sono i super rosati. E vi devo dire la verità, neanche i super marroncini. Sono questo nude violaggio neutro che cerco sempre, sempre, sempre. In realtà mi piacerebbe tantissimo prendere anche un marroncino, però proprio di quelli chiari, 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 chiari. Perché trovo che i marroni siano sempre troppo scuri. Non saprei come descriverlo. Ho fatto un pozzo. Ho voluto tagliarmi il rossetto senza acqua micellare. Ho fatto un po' un pozzo. Allora abbiamo gli ultimi due. Uno è l'Estat di Richiova. Bergos Mifai. Che è un marroncino, un grigiestro scuro. Che però per me è considerabile nude. Fondamentalmente per me i nude sono ciò che non è rosso. E poi abbiamo uno della Pionique. Bello fucsia. Ok. Sto scambiando le cose. Questo è il numero 01. L'Estat. Anche questo si stende molto facilmente. Anche questo si stende molto facilmente. E' molto confortevole. Però vedete che è leggermente più opaco. Allora questo colore è infernale. Cioè ora come ora non mi dono particolarmente. Però mi assicuro che su pelle più chiara è bellissimo. Una causa di Campiresky. E c'è un altro che mi piace molto in questa collezione che si chiama Lucy. Ma non ho fatto il tempo a prenderlo. E lui si è tipo un colore zucca. Bellissimo. Questi pack hanno letteralmente conquistato mia madre. Mi fa ridere perché ce li ha tutti esposti. I quelli azzurri in camera. Perché la camera è azzurra. E questi in bagno. E non so mi faceva piacere darle proprio l'intera collezione. Mi sono dato giusto questo. E vorrei prendermene un altro. Almeno. E però non so. Le piacciono. E non so mai che regali farle. Perché lei ha già tutto. Quindi quelle volte in cui le piacciono tanto queste cose. Le lascio volentieri. Ecco. Infatti mi ha già detto. Chi ha visto delle mie storie questi. Mi fa, fammi rivedere. Mi piacciono. Quindi immagino che ne darò un po' anche lei. La labbra ancora allora. C'è da dire. Fortunatamente che lei ama invece rossetti molto rosaghe. Quindi siamo compatibili. L'ultimo rossetto è un rossetto estivo. Si chiama Framboise. Ed è il numero 402 della Bionique. E veramente non è un rossetto che è nelle mie corde. Ma mi piace. Ok. No. Tantissimo. Però l'estate. Chiaro se potremmo portarlo quest'anno. Ok. Sono andato fuori. Penso mi stia bene. Davvero. Vedete che è completamente diverso rispetto agli altri. Però mi piace tantissimo. Dal vivo è ancora più acceso. E fa impazzire. Fa impazzire. Come vedete ha un cou cou finish molto, molto, molto più opaco. Quindi mi dà molto meno effettore in polpa. Quindi quasi adesso preferisco quelli meno opachi. Non riesco a decidermi. Comunque questo era l'ultimo. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Sia stato utile per qualunque modo. O sia stato comunque rilassante. E penso proprio. Penso proprio. Penso proprio. Se non ci sono. Penso. 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 e a curarli e a curarli e a curarli una buona 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 notte buona notte buona notte soñito oro good night sweet dreams buenos nottes dulces sueños buenos no buon noob buon noob buon noob good night Buonanotte, pasticcini, un bacione, non è notraspere, calispera. Grazie a tutti.